Ho scelto l'Audace perché è una società seria con un progetto ambizioso. Sono anni che Milite nel campionato di Serie D è ben figura, quindi è stato facile per me fare questa scelta. È una categoria molto particolare, dove ci sono giocatori importanti che scendono da categorie superiori, ma ci sono anche ragazzi che si vogliono mettere in mostra, che provengono sia dal settore giovanili ma anche da categorie inferiori. È un gruppo molto carico, voglioso di migliorare giorno dopo giorno, quindi se i prospetti sono questi non si può che sperare bene. Noi assicuriamo ai tifosi che suderemo la maglia partita dopo partita, quindi noi possiamo chiedere a loro di starci il più vicino possibile.